Il Ministero dell'Università Ricerca ha deciso, sarà Pietro Zappalà il nuovo presidente del Conservatorio Monteverdi di Cremona che prenderà il posto di Andrea Rurale per i prossimi tre anni. Professore di musicologia e storia della musica nel Dipartimento Cremonese dell'Università di Pavia, Zappalà nella sua carriera ha vantato incarichi di rilievo nel settore. Si occupa di biblioteconomia e bibliografia musicale con un'attenzione particolare alla valorizzazione di fondi di audioregistrazioni e un interesse per i compositori sette ottocenteschi. Il suo insieme a quello di Pier Giacomo Mion della Carbonare e Alex Turrini era tra i nomi proposti dal direttivo del Conservatorio al di Castero guidato dalla Ministra Anna Maria Bernini. Sono molto grato a chi ha riposto fiducia in me e quindi ha proposto la mia persona per questo ruolo. Ripercorrendo un po' le tappe ho dato l'adesione, la manifestazione di interesse a questo incarico proprio per agevolare, contribuire, dare un'ulteriore opportunità di collegamento fra la musicologia e la musica pratica, operativa, performativa diciamo. Un ruolo un po' impegnativo per il quale dovrò forse maturare ulteriori esperienze di natura gestionale che ho già condotto in seno all'università e adesso appunto si svilupperà in altri settori. Pietro Zappalà, friulano d'origine macremonesi d'adozione, arriva all'ombra del Torrazzo proprio per dedicarsi alla musicologia, da studente prima e da ricercatore, professore associato poi. Come presidente del Maggiore Istituto Musicale Cittadino svolgerà da un lato una funzione di rappresentanza e dall'altro attività gestionali e finanziarie. I compiti disciplinari continueranno ad essere svolti dall'attuale direttivo anche se le collaborazioni non mancheranno. Chiaro che si lavorerà in sintonia quindi vedremo in che misura potremo innanzitutto consolidare le attività già in essere e eventualmente sviluppare nuovi progetti che appunto possano abbinare utilmente musicologia e musica. Spero veramente di metterli a frutto e di dare un buon contributo per il ruolo che mi compete.